C'è una cammina per le tante sessione a me, a un paio di te, se ne hai partito troppo, se ne hai visto che cosa? Ti può corrare il nostro, se ne hai già stata pulita, per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni cante di amarezza, mi è andata per non sentire la amarezza. Grazie.